Ho subito avuto un impatto positivo con la realtà Lanciano, ho trovato un gruppo molto unito, composto da un'ossatura di gente che c'è qui da più anni e dei giovani che ci mettiamo a disposizione del mister per questo progetto. Il mio obiettivo prima di tutto è mettere le mie qualità e le mie giocate a disposizione del mister e della squadra. Cerchiamo prima di tutto di raggiungere la salvezza e poi cerchiamo di non fermarci più. Il mio obiettivo è di fare più gol possibile essendo un attaccante e che questi gol servano per portare punti importanti. Le caratteristiche principali penso siano la velocità, sono un attaccante d'utile quindi posso giocare in più ruoli d'attacco, ho un buon tiro, una buona tecnica e per il resto c'è da imparare. Credo che abbia un grande impatto con i giocatori, si vede molto che il gruppo e la squadra lo seguono e io personalmente mi trovo molto bene perché è un mister che ti lascia tranquillo quando è giusto che tu lo sia però è un mister che sulle sue convinzioni ti inculca bene quelle che sono le sue mentalità sia di gioco sia fuori dal campo e io mi ci trovo molto bene con lui.